Molti esercenti di San Lorenzo hanno preferito non rispondere alle nostre domande. Chi lo ha fatto ci ha chiesto gentilmente di non essere ripreso e soprattutto di non riprendere il locale. O dai la mazzetta a me o paghi molte salate. In altre parole, questo si chiama pizzo. Ma a taglieggiare i ristoratori di alcune storiche vie di Roma sarebbero stati un gruppo di vigili urbani. Quattro sarebbero finiti nel registro degli indagati con l'accusa di concussione. Invece, un altro agente di polizia di Roma Capitale è stato già processato e condannato a quattro anni di carcere in interdizione perpetua dai pubblici uffici. Non potrà mai più indossare la divisa che ha disonorato. È stato registrato mentre intascava una mazzetta. Il coraggio di un ristoratore esasperato a posto fine a racket. Sa niente di questo? Mai sentito niente? Mai. Volete parlare? Non mi interessa proprio niente.